insomma noi sacerdoti come sapete non abbiamo la moglie viviamo per conto nostro uno potrebbe immaginare siete da soli in realtà come gesù oggi ci spiega nel vangelo chi ha lasciato per me sorelle fratelli genitori eccetera eccetera i campi riceverà la vita eterna il centuplo qua giù e come vedete qui c'è un grande centuplo si sta facendo una produzione a catena di zucchine pensate da una zucchina guardate quante ce ne sono saltate fuori è questo un piccolo esempio di centuplo quando la gente si mette insieme collabora e poi cosa ci faremo con queste zucchine le regaliamo agli altri anche tu un pesetto tu forse te le vuoi mangiare sicuramente un pesetto me lo mangio ecco buona giornata